Sandro Galantini, il suo nuovo volume, Giulia Nova tra storia e memoria, come presentarlo? È un volume che è un affascinante itinerario in 70 anni di storia, tra il 1870 e il 1940, 180 pagine, 200 fotografie, 30 tra mappe, cartografie, progetti, per avere uno sguardo a 360 gradi sulla storia di un centro abruzzese, Giulia Nova appunto, che ebbe innegabili primati. Sicuramente è un viaggio denso, intrigante, fascinoso, per capire di più e meglio cosa fu Giulia Nova in quel periodo. Il volume in quanti capitoli è diviso? Sono sei capitoli, si parte dall'urbanistica, si attraversa la storia della banda musicale, le cui origini risalgono agli anni 30 dell'Ottocento, e poi ancora musicisti e compositori, la corale, le attività imprenditoriali, Orsini, De Martis, Crocetti, Ianni, la storia del lungomare, la storia del Cursal, le colonie marine e infine il turismo balneare.